Musica Benvenute e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. In apertura purtroppo una dovuta riflessione sul tragico fatto di cronaca, il caso del 19enne di Roseto che si è lanciato nel vuoto ieri pomeriggio dopo aver annunciato la volontà di suicidarsi in un video postato sui social un'ora prima del gesto, riapre ora il dibattito sulle problematiche del disagio giovanile. Lo psichiatra Marco Sarchiapone, docente di psichiatria all'Università del Molise ed esperto in diagnosi delle sindrome depressive, al nostro microfono ci spiega come il fenomeno possa essere contrastato attraverso un'azione di prevenzione che passa anche attraverso le scuole, suicidi che per i giovani statisticamente sono la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Paolo Nerenzetti Gli ultimi tragici avvenimenti ripropongono nella sua drammaticità il problema del disagio giovanile che porta spesso a tragici eventi come è accaduto nelle ultime ore anche nella nostra regione. Professore, che cosa si può fare per evitare quello che è accaduto anche nelle ultime ore ma perché si verificano sempre più questi episodi tragici tra i giovani? Beh, allora, cominciamo un po' dall'inizio. Intanto sì, effettivamente è uno dei fenomeni più rappresentato tra i giovani costituendo la seconda causa di morte tra tutti i giovani in tutto il mondo. In alcune nazioni è anche la prima causa di morte e questo va da sé che è un elemento decisamente molto molto grave se si pensa a giovani di 10, 11, fino ad arrivare a 18, 19, 20 anni che si tolgono la vita. Naturalmente l'azione principale è quella di prevenire questi infausti, esiti di un disturbo psichico perché alla base c'è sempre un disturbo psichico, nel 95% dei casi la persona che ha tentato che si è suicidata aveva un disturbo psichiatrico o psichico più in generale e il 50% delle persone che si tolgono la vita il mese prima si sono rivolte ad un medico non necessariamente psichiatra ma comunque ad un medico per manifestare il proprio disagio. Quindi è evidente già da questi dati che sicuramente si può fare molto. Gli adolescenti sono una categoria decisamente molto molto a parte e si può considerare al pari di altre categorie come dei cosiddetti gruppi a rischio nei confronti dei quali vanno adottate delle misure di prevenzione assolutamente efficaci. L'elemento scatenante nel 98% dei casi di suicidi di adolescenti è la disperazione cioè ci sono dei sentimenti così cupi, così chiusi, così assolutamente inalienabili per cui l'adolescente non trova un'alternativa al dolore che sta in quel momento sperimentando per cui quando c'è questo elemento di disperazione che si percepisce ovviamente con strumenti adeguati e con personale formato ad hoc una volta individuati gli elementi, i segni di rischio si può sicuramente intervenire. La prevenzione deve assolutamente partire dalle scuole che è il luogo privilegiato per antonomasia dove gli studenti passano la maggior parte del loro tempo dove creano gruppi, dove da ragazzini diventano adulti e così via. Un programma in particolare è stato per esempio adottato da una scuola qui a Pescara che è l'istituto alberghiero, insomma, dove da qualche anno questo programma di prevenzione va avanti e ha avuto i suoi risultati naturalmente. Si è concluso con la firma di un documento unico, il Consiglio Comunale Congiunto tra Teramo e l'Aquila sul delicato tema della riorganizzazione sanitaria. Le due amministrazioni hanno chiesto modifiche al decreto Lorenzin per realizzare due ospedali di secondo livello uno nel comune Teramano e uno in quello Aquilano. La parola passa ora alla regione Abruzzo. Tania Bonici Castelli. Una giornata che ha una valenza storica, così ha commentato il sindaco Gianguido D'Alberto all'apertura dei lavori del Consiglio Comunale Congiunto tra Teramo e l'Aquila svoltosi nella sala consigliare del Consiglio regionale d'Abruzzo. Tema dell'iniziativa, il delicato problema della riorganizzazione sanitaria. Raggiunto con successo l'obiettivo di arrivare all'approvazione di un documento congiunto tra le due amministrazioni comunali guidate da Pierluigi Biondi, primo cittadino dell'Aquila di Fratelli d'Italia e Gian Guido D'Alberto, sindaco teramano del PD. Così evitando campanilismi e rivendicazioni territoriali di bandiera i due comuni abruzzesi si sono alleati ufficialmente per chiedere modifiche al decreto Lorenzin al fine di realizzare due ospedali di secondo livello uno a Teramo e uno all'Aquila. Nel suo intervento il primo cittadino di Teramo ha dichiarato che la regione è sempre stata caratterizzata da divisioni e competizioni tra territori, ma il diritto alla salute deve essere garantito in modo uguale. Dobbiamo interrompere in modo netto e radicale, sostiene il sindaco D'Alberto, la costruzione e la realizzazione di un abruzzo a due velocità in cui l'area teatino-pescarese, con scelte del passato e oggi in continuità, va avanti in modo non sostenibile, penalizzando territori che hanno un'altissima dignità anche e soprattutto in materia di sanità e che vengono lasciati colpevolmente indietro. Va giù duro anche il sindaco Biondi, quando spiega che le eccellenze specialistiche sono riconoscibili e fondamentali per l'Abruzzo e che solo nell'ultimo anno si sono persi 80 milioni di euro in mobilità passiva. La maggiore mobilità attiva la si riscontra verso il Lazio, il che significa che il territorio abruzzese rappresenta una sorta di frontiera che può diventare un elemento attrattivo. Ma Teramo ha anche un altro problema, tutto interno e politico, su dove ubicare il nuovo super ospedale. Nel 2017 il Consiglio Comunale si era espresso sull'area di Piano D'Accio. Oggi il sindaco D'Alberto, visto anche il dibattito che si è aperto in città, pensa di far rientrare in gioco altre zone, tra cui quella di Villa Mosca, dove insiste ora il vecchio ospedale Mazzini. In conclusione, stando alle richieste dei comuni, è probabile che l'assessore regionale Nicoletta Verì si presenti al tavolo di monitoraggio Stato-Regioni con la richiesta di quattro super ospedali per l'Abruzzo. Per qualcuno sembra impossibile ottenerli, ma le oggettive difficoltà di collegamento che presenta il territorio abruzzese li rende necessari. Torniamo ora a occuparci dell'erosione delle coste. Vertici a Pescara, tra la Regione e i sindaci dei comuni flagellati dalle mareggiate dei giorni scorsi. Il Governatore Marco Marsilio ha dichiarato che la Regione non ha le risorse per fronteggiare il disastro e che chiederà lo Stato d'emergenza, questo anche per suscitare l'intervento dello Stato. I comuni non sono in grado di fronteggiare l'emergenza erosione e chiedono aiuto alla Regione, ma la Regione non ha risorse sufficienti e chiede l'intervento del Governo e se nemmeno lo Stato dovesse dare risposte soddisfacenti, toccherà l'Europa a risolvere la situazione. E quanto emerso dall'incontro di ieri tra il Governatore Marco Marsilio e i sindaci dei comuni maggiormente colpiti dalle mareggiate dei giorni scorsi. Presenti anche due parlamentari abruzzesi, Nazerio Pagano di Forza Italia e la 5 Stelle Gabriella Di Girolamo. L'entità degli interventi che devono essere messi in campo per proteggere gli oltre 130 chilometri della costa abruzzese a rischio di erosione è tale che o il Governo, l'Europa, chi sta sopra il territorio interviene o altrimenti i sindaci e i comuni da soli ma neanche la Regione non possono essere in grado di intervenire se non per le opere di somma urgenza. I due milioni stanziati dalla Regione non potranno essere che un pagliativo. I circa 130 chilometri di costa abruzzese sono martoriati, le spiagge e molti tratti sono praticamente scomparse, stabilimenti balneari sono crollati e il mare ha distrutto strade e arredi urbani. La cosa peggiore però è che si è ben lungi dal trovarsi d'accordo su quella che potrebbe essere una soluzione. Il litorale infatti è già ampiamente cementificato e interventi come la collocazione di barriere rigide e scogliere sembrano solamente spostare il problema poco più a sud. La Giunta ha approvato la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza che trasmetteremo al più presto con tutti gli allegati alle amministrazioni competenti al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Lo stato d'emergenza, richiesto dalla Giunta regionale però, è una flebile speranza. Questi giorni di maltempo infatti hanno piegato diverse località italiane. Mareggiate e desondazioni hanno costretto molti cittadini lungo tutta la penisola ad abbandonare le proprie case. Per Venezia ad esempio, su cui tutti i riflettori sono rappuntati a causa del suo pregio turistico, il governo ha già varato misure straordinarie e sono decine e decine gli sfollati del capoluogo Veneto. Ed è proprio questa la faccenda burocratica che potrebbe declassare l'Abruzzo in fondo alla classifica delle urgenze. Nella nostra regione sono crollate solo strutture commerciali e al momento non vi sono sfollati. Per questo motivo le attenzioni dello Stato potrebbero privilegiare altre regioni e lo stato di emergenza, già negato per la grandinata estiva, potrebbe non essere accordato. Se ciò dovesse accadere, sarà un grosso problema reperire le risorse necessarie a fronteggiare la calamità. Regione e comuni hanno le casse vuote. Presentato oggi a Pescara il rapporto 2019 dell'Osservatorio di Lega Ambiente Città-Clima verso nuove politiche urbane per far fronte al surriscaldamento climatico. Lega Ambiente lancia un grido d'allarme per delle politiche da attuare proprio sui nostri territori in modo da ridurre gli effetti di questo cambiamento climatico. Di Marco è così? Possiamo dire con estrema freddezza che ci troviamo già in emergenza climatica perché il cambiamento climatico è già in atto e quindi c'è necessità di accelerare con le politiche di mitigazione e adattamento su cui purtroppo a livello nazionale siamo ancora sprovvisti. Nonostante ci fu un tentativo di imporre una strategia nel 2014 ad oggi non ancora abbiamo un piano concreto che ci permetta di passare dagli studi a quelle che sono le azioni di mitigazione vere e proprie. Questo riscaldamento globale è reale parliamo di un grado virgola uno negli ultimi cinque anni di aumento ed è chiaro che dobbiamo accelerare nella messa in campo di quelle che sono le politiche atte a mitigare questo cambiamento climatico. Ovviamente questo significa ripensare soprattutto le nostre città non a caso l'Enea richiama l'attenzione anche su tre bacini nostri quello di Pescara, del Tronto e del Sangro per far sì che tutte le nuove azioni vengano messe in campo in funzione delle buone pratiche europee che esistono. Questo significa ripensare anche il modo di raccolta delle acque piovane pensare a come mettere in campo azioni di piantumazione degli alberi per ridurre il caldo che comunque si sprigiona soprattutto nelle aree urbane durante l'estate e realtà un po' più complesse di riorganizzazione dei sistemi urbani nostri e territoriali proprio perché attraverso quest'azione noi dobbiamo fare in modo che diminuiscono anche i danni economici e sulla salute delle persone. Grande partecipazione cittadina ieri sera all'Assemblea pubblica a Loreto Prutino per quanto riguarda la realizzazione di una centrale a biometano ma la sensazione dopo l'incontro è che si vada verso nulla di fatto. Il servizio è della redazione di Vestina News. Oltre 400 le presenze ieri sera a Loreto Prutino all'Assemblea pubblica per dire no a gran voce alla costruzione di un impianto a biometano. L'Assemblea ha visto la presenza oltre che del comitato Difendiamo Loreto raggiunte le 800 adesioni in pochi giorni del sindaco Starinieri di medici, ricercatori universitari, agronomi che hanno portato la propria riflessione sul tema. La volontà del comitato dall'inizio è quella di difendere il territorio la genuinità dei prodotti tipici di Loreto Prutino cosa che verrebbe meno, come annunciato dallo stesso comitato con la realizzazione di questa centrale. Dunque alla termine di questo incontro che finisce a mezzanotte e mezza quello che posso dire è che mi sembra sì che forse ci sia ancora un punto interrogativo ma mi sembra che l'amministrazione comunale abbia comunque manifestato la volontà di procedere alla creazione di atti che mettano ben in chiaro la volontà dell'amministrazione comunale in senso contrario ad un impianto di questo tipo. Il sindaco sì, forse a volte parla di rammarico però forse anche riesce in questo momento a prendere atto della volontà popolare. Come detto presente all'Assemblea anche il sindaco di Loreto che confrontandosi con la platea ha rimarcato più volte dal palco come anche nel suo comune c'è necessità di trovare una soluzione al problema dei rifiuti e che per quanto riguarda la costruzione del biogas l'ultima parola spetta sempre alla regione Abruzzo. È stata una bella serata di partecipazione democratica sono venuti alcuni che hanno apportato il loro contributo altre figure che sono presenti sempre dappertutto ma ho visto poche battagliere vincere. Io credo che quello dei rifiuti è un qualcosa che non deve essere sottovalutato e quindi è venuta fuori una volontà per il momento che non si vuole la biodigestione aerobica a Loreto. Io mi auguro se è vero che credono in quello che hanno detto che si faccia un po' di studio per aiutare gli altri senza non compiere l'errore se è così veramente inefficace, non valido e anzi che crei altri problemi. Quindi ecco, da una parte contento ma soprattutto deluso perché gli imprenditori agricoli per quanto riguarda le loro aziende lo metterebbero. Guardi che la Meccanici ha fatto solamente un lavoro inizialissimo come amministrazione sono stati presi le informazioni essenziali valuterà, ma penso che già ha valutato se sull'Oreto è percorribile ma penso di no, questa sera non c'era e quindi anche un attimo di McEnergy, di ringazio, di serietà e di rispetto per i cittadini di Loreto. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Fabrizio Rapposelli e il consigliere comunale di Pescara, Andrea Pastore hanno criticato le politiche della mobilità e le ZTL in atto nel fine settimana con un danno per i commercianti con il centro cittadino deserto. La proposta è quella di mettere in atto delle politiche e delle ordinanze che vadano a incentivare il commercio che rappresenta una delle principali ricchezze della città, volendo la ZTL 3 ambientale nel sabato in via Regina Margherita e con un piano B di invertire il senso di marcia di via Mazzini. Vediamo. Da consiglieri di maggioranza, da partito che è nella maggioranza del governo della città di Pescara, voi criticate la politica delle ZTL soprattutto del sabato pomeriggio in alcune vie centrali di Pescara che secondo voi creerebbero grossi problemi ai commercianti? Ma allora, io non la porrei sul discorso critica nel senso che noi, la situazione attuale potrebbe essere critica ma la situazione da qui a, mi auguro breve, sicuramente potrebbe migliorare noi abbiamo notato che comunque il Sindaco e la Giunta hanno adottato un provvedimento molto importante alla fine di luglio del 2019, cioè hanno allungato un po' la ZTL 3 ambientale cioè quella su via Regina Margherita dalle ore 16 alle ore 17 riteniamo però purtroppo che comunque il centro cittadino soprattutto il sabato rimane una landa deserta, desolata e questo è un documento totale, ovviamente manco a dirlo, del commercio cittadino pertanto noi riteniamo che si debba e si possa fare uno sforzo in più la ZTL 3 ambientale che è posta all'inizio di via Regina Margherita debba essere abolita, debba essere tolta e dare la possibilità quindi sia ai cittadini di pescare non solo ma a chi viene da fuori di arrivare proprio nel centro, nel cuore cittadino e animarlo sicuramente molto di più e questo darebbe sicuramente una grandissima boccata di ossigeno al commercio tutto che veramente grida di dolore noi abbiamo l'assessore Alfredo Cremonese e credo che questa è una iniziativa, una proposta nostra di Fratelli d'Italia del gruppo di Fratelli d'Italia e credo che l'assessore la debba portare avanti la posta la debba portare avanti perché è una delega sua e credo che l'assessore, anzi ne sono certo che il commercio ci tiene e quindi questa battaglia e questa iniziativa penso che debba essere sicuramente appoggiata Andiamo ora all'Aquila, ancora problemi per i sottoservizi in via Fortebraccio a causa del ritrovamento di un vecchio collettore fognario si attendono ora i pareri della sovrintendenza per proseguire i lavori Daniela Rosone Via Fortebraccio continua a essere chiusa e al tempo stesso cresce la rabbia dei residenti che dopo dieci anni ancora non riescono a tornare a casa a Costa Masciarelli ad esempio Il problema ora sono alcuni pareri della sovrintendenza sono stati ultimati infatti i saggi archeologici sul primo tratto di via Fortebraccio da Porta Bazzano sino a salire allo sdrucciolo dei poeti ed è stata anche intercettata la condotta fognaria preesistente già rinvenuta a monte della strada nel corso dei lavori per i sottoservizi Il ritrovamento del collettore storico, quello antico interferisce però con le soluzioni progettuali adottate per proseguire la realizzazione del tunnel intelligente per cui ora andrà studiata una soluzione tecnica in attesa che la sovrintendenza si pronunci sulla relazione archeologica fornita Questo per i residenti vuol dire altro tempo perso però La cantierizzazione dei lavori su via Fortebraccio è stata suddivisa in cinque fasi da realizzare da Porta Bazzano a salire sino a raggiungere piazze a Bariscianello Sino a Natale proseguiranno i saggi archeologici sulle cinque aree così come pianificato, ha spiegato l'ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua aprendo e chiudendo i quattro cantieri che restano l'uno dopo l'altro per tracciare altri rinvenimenti in attesa del parere della sovrintendenza in seguito al quale i lavori per il tunnel potranno proseguire È stato sfaltato quindi il primo tratto da Porta Bazzano allo sdrucciolo dei poeti e sarà riaperto mercoledì dopodiché sarà chiusa la strada nel secondo tratto previsto cioè dallo sdrucciolo dei poeti sino a Costa Campana e così via È importante, secondo la GSA, informare la cittadinanza che la riapertura del primo tratto non vuol dire che i lavori sono terminati perché una volta ultimati i saggi archeologici si dovrà decidere come intervenire per realizzare il tunnel proprio in virtù di questi problemi La Camera di Commercio di Chieti Pescara ha conferito 43 riconoscimenti all'interno della 37esima edizione del premio Fedeltà al lavoro e dal progresso economico Durante la premiazione anche due premi speciali uno a Graziano Marco Vecchio l'altro alla memoria del primo presidente della Camera di Commercio Unificata Daniele Becci Ben 43 sono state le persone premiate dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara durante la 37esima edizione del premio Fedeltà al lavoro e dal progresso economico La consegna dei riconoscimenti avvenuta all'interno del teatro Marruccino di Chieti è stato un momento di grande festa per chi in Abruzzo in questo caso nelle province di Chieti e Pescara ha investito e continua a farlo nonostante il periodo di grande crisi che attanaglia le imprese abruzzesi è un'iniziativa che serve a risvegliare anche gli animi della gente perché spesso si parla solo di cose cattive invece noi vogliamo parlare anche delle cose belle in modo particolare e questa è una bella giornata per il mondo del lavoro dopo ogni salita c'è una discesa dopo ogni discesa c'è una salita bisogna avere fiducia perché le imprese che si dedicano con correttezza ci saranno nuove primavere nei prossimi anni alla premiazione è intervenuto anche l'assessore alle attività produttive della nostra regione Mauro Febo che facendo un po' il punto della situazione delle nostre aziende ha annunciato come a breve ci saranno due bandi comunitari per sopperire alla mancanza di liquidità da parte delle aziende per quanto riguarda l'Abruzzo abbiamo delle criticità ma abbiamo anche delle positività, delle buone notizie meno male che le grandi aziende continuano a tirare le piccole continuano a soffrire soprattutto in un momento di mancata liquidità purtroppo non abbiamo l'istituto di credito stiamo cercando di accompagnare questa mancanza stiamo cercando di sopperire a questa mancanza dando possibilità di intervenire con i fondi comunitari sono due bandi importanti due bandi che sono rivolti a tutte le aziende medie e piccole ai professionisti, alle società di servizi quindi queste sono le novità e soprattutto sopperiscono in questo momento alla mancanza di garanzie spesso oggi i piccoli imprenditori non hanno più da dare quelle garanzie la regione Abruzzo cerca di sopperire arrivando fino a garanzie dell'80% Momento toccante della giornata il conferimento del premio alla memoria di Daniele Becci consegnato alla famiglia rappresentata sul palco dalla figlia Arianna e dalla moglie Francesca Cambiamo ora argomento Gianfranco Mancini è stato nominato dal consiglio d'amministrazione il nuovo presidente della fondazione Tercas subentra Enrica Salvatore arrivata a scadenza di fine mandato Gianfranco Mancini presiede da oltre 20 anni il gruppo Consorforma Intercredit resterà in carica nella fondazione Tercas fino al novembre 2020 quando scadrà il suo mandato di consigliere di indirizzo andiamo avanti con il nostro telegiornale la psicologia applicata allo sport in particolare al calcio e sui effetti moltiplicatori nelle prestazioni agonistiche si è parlato di questo nel convegno che si è svolto stamani a Chieti tra i relatori principali il professor Giuseppe Vercelli responsabile dell'area psicologica della Juventus il servizio è di Andrea Costantini un buon allenatore deve essere un bravo psicologo quante volte si è ascoltata questa frase nei discorsi che attenevano la gestione di calciatori soprattutto se di club professionistici argomenti che sono stati trattati stamani nel corso di un convegno all'Università di Chieti atto a sondare il rapporto molto stretto tra psicologia e sport il rapporto tra la prestazione del giocatore e la motivazione è un rapporto moltiplicativo cioè se c'è 10 di abilità del giocatore ma 0 di motivazione il risultato sarà 0 quindi la motivazione appartiene alla testa e pertanto lavorare sulla testa è fondamentale con tutte le tecniche che qui verranno oggi esposte ci sono stati degli esempi davvero particolari che hanno riguardato da vicino una realtà come quella del Pescara l'abbraccio recente del presidente Sebastiani all'allenatore Zauri dopo una vittoria che era fondamentale per il cammino di Zauri e della squadra e poi quell'abbraccio famoso di Massimo Dosserse Cosmi nella sera di Trapani quando il Pescara ha conquistato la sua ultima Serie A Sì, verissimo e questo appartiene a un ingrediente dei due fondamentali che oggi qua è esposto che si chiama prendersi cura è fondamentale per dare la carica in qualche modo alla testa del giocatore accudirlo, prendersene cura perché questo gli dà la sicurezza emotiva che permette poi al giocatore di esprimersi al meglio ed è fondamentale, questo avviene tra allenatori e giocatori ma anche tra allenatori lì Oddo in qualche modo si è preso cura di Cosmi in un momento di difficoltà emotiva Nonostante sia forte il legame tra psicologia e sport Juventus è tra i pochi club ad aver realizzato nella sua struttura organica un'area psicologica diretta dal professor Giuseppe Vercelli tra i principali relatori del convegno e ideatore del modello Sfera Sfera è un acronimo che significa sincronia quindi la capacità di stare concentrati forza, ovvero la capacità di portare in gara solamente le nostre abilità energia, intesa come regolazione ritmo, che dà qualità al gesto e poi l'attivazione che fa parte della nostra automotivazione Cosa chiede Juventus a questa area? Juventus ha capito una quindicina di anni fa che quest'area era una parte fondamentale per la prestazione quindi ha deciso di svilupparla a più livelli e principalmente si lavora sulla prestazione come ottimizzazione si lavora anche sulla parte del settore giovanile che riguarda la formazione dei giovani calciatori e infine si dà un supporto di tutoraggio ai ragazzi che studiano nel College di Juventus Questo convegno nasce all'interno di un gruppo di iniziative che abbiamo promosso come corso di studi e come dipartimento di scienze psicologiche e della salute del territorio per far riflettere soprattutto i futuri psicologi sulle opportunità anche di impiego della psicologia in contesti diciamo così non tradizionali di solito siamo abituati a pensare ad un unico sbocco professionale per gli psicologi penso che questo convegno possa dimostrare molto efficacemente che uno psicologo può trovare lavoro anche su un campo di calcio E questo servizio ci ha così traghettato nella pagina dello sport il Pescara continua a preparare il match di venerdì contro la Cremonese nei prossimi due giorni torneranno i nazionali impegnati oggi si tratta di Bettella, Castanos, Ingelson e Macini intanto migliorano le condizioni di Busellato che potrebbe essere convocato contro la squadra dell'ex Baroni mentre continua a fare il lavoro differenziato Palmiero che va verso il forfè del momento del Pescara e dell'inizio di stagione ha parlato l'allenatore Luciano Zauri ospite ieri sera di Replay di Enrico Rocchi Il presidente comunque un pochettino l'ho anche detto se lui venendo al campo se i problemi non si risolvevano con la sala del giornale Ma venendo al campo avesse visto delle situazioni che non gli piacevano è chiaro da mettere mano subito evidentemente insieme ai due direttori è un opportuno non fare scelte azzardate e dare possibilità E chi l'ha aiutata di più in quel momento? Ma non c'è una persona in particolare sicuramente ti posso parlare di quello che c'è fuori dal campo ovvero la mia famiglia Chiudermi dentro casa e avere una situazione molto serena aiuta a fare molte più cose rispetto ad avere una situazione complicata però comunque quelli che più mi hanno avuto sono stati i giocatori la squadra secondo me è la parte più importante di un gruppo anche perché oltre ad essere numericamente tanti sono quelli che poi fanno anche la differenza quindi la squadra è quella che più di tutte ha fatto la differenza Alla base del mio rapporto con la squadra c'è molto dello Zauri calciatore perché io ho smesso l'altro ieri quindi non posso oggi essere un allenatore che ha 30 anni e ha spalle di esperienza da allenatore quindi è chiaro che porto la mia esperienza da calciatore che è molto vicina a quelli dei ragazzi è chiaro che alla base ci sono delle scelte che devo fare quotidianamente e settimanalmente è quello che poi mi fa stare dall'altra parte Preferirebbe che la squadra non sia toccata oppure che venga un giocatore in più col rischio di rompere qualche meccanismo? Allora intanto diciamo che comprare tanto per comprare non serve a nessuno la cosa più importante secondo me è quando si arriva al mercato capire se c'è qualche scontento c'è qualche scontento che è la base secondo me una volta che si individua qualche scontento ammesso che poi ci sarà una volta che ci sarà qualche scontento si metterà mano eventualmente a qualche sostituto perché in questo momento sono contento dei miei ragazzi sono giocatori che hanno giocato poco e sono tanti gli scontenti qualcuno che ha giocato meno c'è ovviamente quindi se dovessi tirar fuori e la voglia andare a giocare lo potremo accontentare Scendiamo in Serie C la sfida di domenica con la Ternana ha confermato i progressi del Teramo che ha giocato alla pari con una delle candidate alla vittoria finale del campionato nel weekend si replica a Bari contro i galletti degli ex Vivarini e per rotta Jacopo Forcella Andrea partita combattuta alla fine diciamo che il Teramo la chiave l'ha trovata quando è andata sotto è stato bravissimo a rimontarla subito a recuperarla subito Sì, sono stati bravi a rimettere subito in parità il risultato perché era stata un po' un'amazzata perché stavano facendo una buona partita c'è stato questo gol una mezza mischia che la palla è rimasta dentro in aria però sono stati bravi a riprenderla subito e ce l'hanno giocata alla pari credo ma vale tanto perché comunque è stata è stata una bella partita con due squadre che si sono affrontate cercando di vincere la partita sia noi che loro e penso sia venuta fuori una bella partita anche per noi in campo è stata è stata bella da giocare no, un giudizio positivo ripeto, è stata una partita equilibrata ce l'hanno giocata alla pari tutte e due penso che potevamo vincerla sia noi potevano vincerla anche loro è venuto fuori un pareggio che però penso dal punto di vista proprio della prestazione si soddisfi un po' tutte e due le squadre è stata una bella partita anche noi tra virgolette in campo ce la siamo gustata nel senso che comunque è stata una partita bella da giocare e penso che sia stato fatto un passo in avanti da parte nostra senti Andrea l'ultimissima X da parte mia X anche nella sfida tra playmaker proietti contro Rigoni ma non lo so questo facciamo X è finita X la partita per cui non ci sono diciamo duelli che contano individualmente quindi l'importante è stato risolto la partita secondo me a parte potevamo non prendere gol potevamo secondo me riuscire a a fare qualcosa di più perché è vero che a volte loro sono stati superiori al livello del gioco però secondo me se guardiamo le occasioni sulla carta siamo stati superiori Matteo lo stress test non è solo per il termo adesso è anche per voi difensori oggi Mari Lung Torromino Ferrante domenica prossima Antenucci Simeri poi ci saranno Denis insomma è un periodo per voi difensori centrali complicatino sì sì sicuramente però secondo me queste sfide sono ancora più belle da affrontare perché sapendo di giocare contro attaccanti di grande livello perché hanno fatto serie superiori a questa secondo me l'affrontiamo per assurdo l'affrontiamo più concentrati e secondo me possiamo fare delle buone prestazioni e questa era l'ultima notizia tutti quanti i nostri servizi sono già online l'informazione torna questa sera alle ore 19 grazie e buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.